Da ex area industriale dimenticata, segnata dal degrado e dalla poca sicurezza, ha spazio riqualificato, con aree verdi e nuovi servizi in grado di supportare la crescita del territorio, sempre nel rispetto dell'architettura degli edifici e della storia. È questa la sfida che la Giunta Comunale di Cesano Maderno, guidata dal sindaco Gian Piero Bocca, ha deciso di intraprendere verso il polo industriale dell'ex insediamento Chimicosnia, oggi smantellato ma ancora al centro dell'omonimo villaggio, abitato attualmente da circa 3.400 cittadini. Il progetto, presentato alla cittadinanza prima in conferenza stampa e poi con un incontro pubblico venerdì 28 ottobre, prevede la rigenerazione, in collaborazione con imprenditori specializzati in recuperi di aree industriali, di edifici esistenti di interesse storico e architettonico e il loro riuso funzionale, nuove residenze, nuove aree verdi aperte al pubblico, spazi commerciali di ristorazione e di servizi destinati ai cittadini, ma anche un polo di formazione professionale preuniversitaria presso la palazzina D, la cosiddetta nave per cui è prevista la ristrutturazione e l'accessione gratuita al comune. Un'occasione per restituire ai cittadini pezzi di storia con il restauro di edifici di pregio e di architettura industriale, ma anche una nuova opportunità per far tornare l'area una parte integrante del tessuto urbano di Cesano Maderno, rivitalizzandola per tutta la città. Questo progetto prevede innanzitutto una grande opportunità di rigenerazione per il villaggio Snia e per tutta Cesano. È un'area ex-industriale sostanzialmente che ospitava il vecchio centro direzionale della Snia, ormai abbandonata da più di 15 anni e quello che stiamo facendo oggi è un dialogo importante con la nuova proprietà, con il nuovo proprietario che è anche il proprietario della ex-Snia di Varedo. È iniziata questa interlocuzione che prevederà una serie di interventi che vanno dalla riqualificazione paesaggistica di quello che era l'esistente, quindi l'ex convitto, la palazzina D, tutti quelli che erano elementi importanti della storia, della cultura e del paesaggio del quartiere, a cui si andranno ad aggiungere una serie di volumi, sia residenziali che commerciali, che andranno sostanzialmente a inserirsi all'interno di quel contesto, per poi a quel punto aprirlo alla città e restituire alla possibilità di tutti i cittadini di passeggiare, muoversi, camminare, vivere quello spazio. L'elemento, come posso dire, qualificante di questo spazio è, mi permetto di dire, l'accessione ristrutturata della ex palazzina D, che era la famosa nave, che ospiterà nei suoi 5.000 metri quadri un polo formativo che sarà la nuova centralità di quel comparto e di tutto il quartiere, perché attraverso l'arrivo di studenti potranno essere sicuramente foraggiati gli interessi di chi vorrà investire, sia commercialmente che socialmente, all'interno di quell'area e in tutto il territorio, creando probabilmente un indotto, anzi sicuramente un indotto, utile a rilanciare e rigenerare un quartiere che aspetta da 20 anni questo intervento. In questo momento è iniziato un percorso anche di verifica di quelle che sono le possibilità di progettazione urbanistica compatibili perfettamente allo strumento vigente che, ripetiamo, ha una scadenza fra 18 mesi, perché il piano di governo del territorio dovrà essere rinnovato nel prossimo futuro, ma l'approvazione di questo piano dovrà essere necessariamente fatta entro la scadenza del documento di piano, di cui questo ambito di trasformazione fa parte. Sono stato molto felice oggi di rappresentare alla cittadinanza del quartiere dell'intera Cesano Maderno, un progetto di riqualificazione che era atteso da più di 20 anni e che ha all'interno una grande potenzialità di sviluppo della città, sia dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista dei servizi e soprattutto del recupero delle aree che erano le sedi principali dei vecchi stabilimenti della SNIA, un'identità storica molto importante del nostro territorio. La sola presenza di tutta questa gente testimonia l'interesse che ci sta dietro un recupero di questa zona storica della nostra città, della nostra identità. Posso garantire dal lato mio e dal tutto all'amministrazione, della mia giunta, dei miei assessori alla partita, la più grande attenzione a tutti quelli che sono i temi nella salvaguardia della tutela ambientale, della connessione con il Parco delle Groane e di tutte quelle attività che sono necessarie e che la legge prescrive per poter realizzare un intervento di questa portata.